L'Ortigia fa suo il match contro il Bologna con non poche difficoltà. Quando alla vigilia coach Piccardo aveva detto che quella di ieri non sarebbe stata una partita facile, qualcuno ha pensato si trattasse di frasi di circostanza o pretattiche, invece erano le parole sincere di chi aveva previsto le difficoltà legate al rischio di un po' di stanchezza del 13 bianco-verdi e la qualità di gioco dell'avversario. L'Ortigia vince ma indirizza il match a proprio vantaggio solo nel quarto tempo dopo tre parziali in chiaroscuro. I ragazzi di Piccardo, privi di Ciccio Cassi e anche di Rossi, infortunato sia la mano, appaiono meno esplosivi del solito e vanno un po' a intermettenza a merito anche degli avversari che giocano una palla a nuoto molto fisica e ordinata, contenendo spesso le micidiali ripartenze dell'Ortigia. L'equilibrio attraverso tutto il primo tempo e che i ragazzi di Piccardo chiudono in vantaggio 4-3 solo grazie alla rete di Napolitano che all'ultimo secondo concretizza un uomo in più. All'inizio del secondo parziale Francesco Condemi parte in controfuga e segna il 5-3, quindi Andrea Condemi in superiorità e Ferrero sul rigore provano la fuga più tre. Ma pochi secondi dopo Milakovic tiene vivo il Bologna. I ritmi non sono alti nel terzo tempo e Biancoverdi iniziano a subire il ritorno dei Felsinei che infilano un parziale di 4-1 e riportano in parità il match 8-8 prima degli otto minuti finali. Nell'ultima frazione però l'Ortigia fa valere la sua maggiore qualità tornando a difendere molto bene non concedendo più superiorità sfruttando al meglio la fase offensiva con la doppietta di Ferrero e le reti di Andrea Francesco Condemi mentre il Bologna riesce a far centro solo con Guerrato. Finisce 12-9 e l'Ortigia nonostante una prova non perfetta guadagna un'altra vittoria e altri tre punti che la mantengono in testa alla classifica. Sabato prossimo i Biancoverdi giocheranno in casa del quinto.